Ciao grande! Liquidato da ogni dottore, non un rimedio, queste le parole, ma la mia cura potresti essere tu. Prima o due passi, non importa, due o tre volte al giorno si abbassano, per sperare, sperare, aiutami a guarire da questa mia malattia. Affetto da una strada, forma di clettomania, voglio averti mia, solamente mia. Ora che non ho più via d'uscita, ora che ogni porta è stata chiusa, apri almeno le gambe verso me. Prima o dopo i passi, non importa, due o tre volte al giorno si abbassano, per volare, volare. Aiutami a guarire da questa mia malattia. Affetto da una strada, forma di clettomania, voglio averti mia, solamente mia. Già sto meglio se ti tengo tra le mie mani. Sto guarendo se ti tengo tra queste mani. efi che Goldman rifando se ti tengo tra le mie mani. Affetto da una strana forma di creptomania Voglio averti mia, solamente mia Riccardo a questa partazza Suono il cuore